Che piacere incontrare qui all'Aquila Carlo Molfetta che è del Taekwondo e è stato campione olimpico a Londra 2012. Quanta acqua è passata sotto i ponti da Londra? Tantissima a partire dal fatto di aver smesso di fare l'atleta, quindi adesso mi occupo della parte organizzativa e coordinativa dello staff perché sono il team manager della nazionale, quindi ne è passata parecchia, sono passati ormai sei anni e è passato remoto ormai. Forse non tutti sanno che il Taekwondo è l'arte marziale più praticata nel mondo. Abbiamo circa 70 milioni di praticanti al mondo, quindi una delle, se non la più, l'arte marziale più praticata al mondo. Ci parli di scuole aperte allo sport perché questa mattina abbiamo, avete un compito molto importante, cioè trasmettere qualcosa ai ragazzi. Sì, appunto i ragazzi soprattutto a questa età devono capire quanto importante sia fare sport e farlo bene. E a parte che ti fa star bene in salute per quando cresci, durante la crescita e poi ti educa e questa è una cosa fondamentale per un ragazzino. Ti posso fare una domanda un po' pontipatica? Il Taekwondo, come altri sport, ha il problema del doping? Perché se ne parla tanto, non so se ne parlerete anche ai ragazzini, perché quando si parla di valori si parla anche di giocare pulito. Diciamo che fortunatamente non abbiamo questo problema. È uno sport molto tattico, poco fisico, solitamente sono gli sport fisici che tendono ad avere questo tipo di problemi. Se ne sono stati beccati due o tre in tutto il mondo, sono pure tanti. Fortunatamente non abbiamo questo problema. L'ultimissima, il tuo rapporto con l'Abruzzo, siamo in Abruzzo. Se conosci l'Abruzzo, se lo stai conoscendo adesso. Sì, conosco l'Abruzzo. Vengo spesso a Teramo perché ho alcuni amici da queste parti. Mi piace molto questa parte dell'Italia.